Ai microfoni Matthew Torgar per parlare di quello che è senza dubbio la notizia più importante del moto mondiale di questa stagione Orga Lorenzo ha deciso di ritirarsi dalle competizioni, ha indetto giovedì una conferenza stampa e il Gran Premio di Valencia che si correrà domenica alle ore 14, sarà ufficialmente l'ultimo GP in carriera del pilota Maiorchino Premessa importante, prima di cominciare, questo video doveva uscire originariamente lunedì per fare una sorta di bilancio finale della stagione 2019 della MotoGP, quindi con promossi e bocciati I promossi e bocciati verranno comunque messi in questo video, per questo motivo questo episodio speciale del Racing Podcast sarà decisamente più lungo perché ci sono veramente tante notizie di cui parlare, dal ritiro di Orga Lorenzo di cui faremo una sorta di recappone della carriera e anche di leggermente mie opinioni personali, chissà il sostituto di Orga Lorenzo che a questo punto apre di fatto una rincorsa al posto di onda ufficiale e poi appunto i promossi e bocciati Olga Lorenzo ha 32 anni, ha deciso dunque di ritirarsi dalle competizioni dopo un anno veramente orrendo dove è finito sempre nelle retrovie a lottare con piloti che sinceramente diritto di cittadinanza in MotoGP al momento non ne hanno come per esempio Siarin che infatti in MotoGP non sarà confermato, tornerà in Moto2 l'anno prossimo e piloti incredibili come Karel Abraham che è lì soltanto perché è un pilota pagante, ricco e sfondato e perché serve oggettivamente un pilota della Repubblica cieca in griglia considerato che si è appunto proprietario del Gran Premio di Bernot, in realtà il papà Lorenzo ha fatto fatica pure a battere il finlandese volante Mika Caglio subentrato in corsa in stagione e questo secondo me è l'emblema del fatto che Lorenzo sia ormai un nobile decaduto della disciplina Lorenzo ha sempre fatto fatica nei passaggi di moto, l'ha fatto dalla Yamaha alla Ducati il primo anno dove le prendeva sonoramente da dovizioso, lo ha fatto nell'unico anno a questo punto di Honda prendendole non solo da Marquez ma anche da tutte le altre Honda Lorenzo ha sempre messo più tempo degli altri ad adattarsi a una nuova moto ormai si parlava di l'anno prossimo del 2020 come anno della possibile rivolta di Lorenzo della possibile svolta più che rivolta di Lorenzo 2020 che non verrà mai perché Lorenzo anche lui giustamente si è stufato di finire sempre ultimo non ha mai trovato il feeling con questa moto ha pure saltato delle gare per via di numerosi infortuni e numerosi cadute anche dovute a instabilità e poco feeling sulla moto nelle prove libere in qualifica insomma in qualsiasi circostanza in qualche gara l'ha sostituito Stefan Brado il collaudatore Honda e a momenti faceva meglio di Orgo Lorenzo anzi senza momenti tutti questi elementi hanno fatto sì che Lorenzo abbia deciso di appendere il casco al chiodo al termine del 2019 Lorenzo questa è una mia opinione personale non mi è mai stato simpatico così come Marquez per la verità anzi Marquez e la simpatia per me sono due cose che non hanno diritto di cittadinanza diamo comunque adito e merito a un 5 volte cambiore del mondo perché comunque Lorenzo ha dimostrato di essere uno dei più forti dell'era moderna è stato l'unico che nell'era Marquez è riuscito a batterlo ha vinto il titolo nel 2012 ha vinto il titolo in MotoGP anche nel 2010 vinse anche il discutissimo titolo del 2015 per via della vicenda Rossi-Marquez però all'albo d'oro risulta anche quel titolo del mondo del 2015 sicuramente Lorenzo era tutto forché un pilota fermo non mi piaceva molto come stile di guida perché comunque aveva la caratteristica di vincere in solitaria quasi mai senza lottare nelle rare volte comunque che l'avevamo trovato a lottare ed era in forma smagliante è riuscito pure a battere Marquez in qualche gara di tappa per esempio mi ricordo una vittoria al Mugello con una lotta incredibile con Marc Marquez e la vittoria di Lorenzo in rettilineo quindi Lorenzo seppur antipatico che sia ha dimostrato comunque di essere tutto forché un pilota fermo di certo non vinci tre titoli in MotoGP per caso Lorenzo non ha dato mai alito di essere simpatico ai più ma non necessariamente devi essere un pilota simpatico e affabile per dimostrare di essere un vincente Lorenzo è sicuramente un pilota molto perfezionista molto metodico che se non ha proprio tutte le componenti al 100% non rende tendeva molto spesso a lamentarsi per qualsiasi cosa e se andava male era sempre colpa degli altri in alcune situazioni e sinceramente questo gli ha fatto perdere un po' di punti per questo a me Lorenzo non è mai stato nelle grazie anche quando era in Ducati nei due anni e anche quando effettivamente è riuscito a vincere con la Ducati dando comunque una svolta alla stagione della scuderia di Luigi Dallinia e voi sapete benissimo che io sono sempre stato un tivoso dello Ducati quando la Ducati aveva preso Orge Lorenzo io sinceramente ero contento perché c'era una possibilità di vincere ma non ero contento per il pilota perché appunto non è mai stato nelle mie grazie è un po' per fare un paragone come se un domani la McLaren prendesse fette il pilota che sinceramente non mi sta proprio a genia ma questo è un altro discorso Orge Lorenzo dunque dopo aver vinto 5 titoli del mondo tra 250 nel 2006-2007 e MotoGP ultimo nel 2015 e sappiamo tutti come l'ha vinto si ritira e lascia spazio diciamo all'ultimo posto di mercato disponibile e qui andiamo a vedere chi potrebbe essere il sostituto anche perché si fanno un sacco di voci a questo punto su chi potrebbe essere il suo sostituto nel 2020 in onda ufficiale io una mia idea ce l'ho ve la espongo e vorrei sapere anche la vostra nei commenti che ci saranno sotto questo video andiamo a vedere chi sono i piloti Honda in questa settimana che hanno corso c'è stato il collaudatore Stefan Bradel che però rimarrà collaudatore il nome più caldo che si fanno sono stati i tre piloti di LCR il team di Cecchino e Rolonda clienti qualcuno dice che il francese Johan Zarko possa essere lui il sostituto qualcuno e io spero sia lui il sostituto dice Carl Crutchlow come tra virgolette premia la carriera perché a quanto pare anche Carl Crutchlow si ritirerà nel 2020 qualcuno può anche azzardare un Takaki Nakagami perché è giapponese il suo moto giapponese anche se ormai probabilmente dovrebbe rimanere nella onda di Cecchinello diciamo che potrebbe essere un ballottaggio per quanto mi riguarda tra Johan Zarko che è rientrato in corso in questa stagione proprio al posto di Nakagami che si è operato e Carl Crutchlow come premio alla carriera qualcuno fa l'ipotesi di Alex Marquez fratello di Mark anche se la vedo sinceramente un'ipotesi veramente improbabile se succedesse sinceramente io non sarei contento perché fondamentalmente sarebbe un interregno dei Marquez sacrificando piloti anche più forti rispetto al fratello di Mark come appunto Carl Crutchlow Carl Crutchlow per premio alla carriera secondo me meriterebbe un'onda ufficiale lui che si è sempre fatto il culo in moto clienti tranne quando era in Ducati nella Ducati ufficiale dove gli è stato un anno di transizione poi ripassando a Honda è stato sicuramente un pilota importante che a me sinceramente piace molto sarei contento di vedere il 35 in onda ufficiale onda ufficiale che comunque al di là di Mark Marquez che ha vinto il titolo del mondo contro nessuno ha fatto veramente fatica con un Orgo Lorenzo veramente che si rottava sempre le posizioni delle ultime dello schieramento con le wildcard delle varie scuderie e dei piloti sostitutivi veramente una fine ingloriosa comunque per un pilota che ha vinto quello che ha vinto 5 titoli del mondo di certo non a caso vedremo se il buon Carl Crutchlow avrà il premio della onda ufficiale io non sarei contento vi dicevo per Alex Marquez perché si ha vinto il titolo di moto 2 in questa stagione ma l'ha vinto nella moto migliore dopo 5 anni che è lì contro nessuno e piloti veramente incostanti cioè se Marquez ha vinto il titolo del mondo e vedi il secondo in classifica che è il venerabile maestro Thomas Luthi qualche domanda te la devi fare di certo sei un buon pilota ma non un fenomeno per carità hai vinto il titolo del mondo però è un titolo del mondo secondo me che va un po' ridimensionato andiamo a fare allora quello che è un bilancio dei promossi e bocciati del moto mondiale al netto che il giudizio su Orghe Lorenzo l'abbiamo dato Orghe Lorenzo che inevitabilmente per i 25 punti totalizzati nella stagione deve per forza di cose essere bocciato per i motivi detti sopra era lì per riscattarsi dopo che la Ducati è andata a molteggiano nella prima stagione nella seconda stagione ha vinto comunque tre gare ma aveva già deciso di andare con Honda una volta che aveva già deciso di andare con Honda inizio giugno Lorenzo si è liberato di testa e comunque si è comportato come un pilota vincente evidentemente il pilota spagnolo doveva avere e deve avere la testa libera per esprimersi al meglio cosa che qui ovviamente non c'era andiamo a vedere la classifica del campionato e fare un breve bilancio dei promossi e bocciati tenendo conto che appunto si correrà il campionato di Valencia in questa domenica ma il campionato di Valencia è influente quando c'è sotto bastoni e avete in mano coppe praticamente niente per il motivo che vediamo in questo momento io è tutto l'anno che vado a dire le stesse cose e lo ribadisco anche in questo video un mondiale dove il maggior contender è uno che finisce o primo o secondo e questa zona ha dimostrato di essere veramente superiore a qualsiasi pilota vinceva come e quando voleva male che vada sempre fatto secondo dava sempre l'idea di quando vinceva di essere per tre quarti di gara al 70% e gli ultimi tre giri dava tutto per tutto e gli altri rimanevano dove erano il 93 Mark Marquez ha vinto un titolo veramente scandaloso ma non perché ha rubato niente anzi ma perché appunto ha duellato contro evidentemente nessuno il distacco contro il secondo pilota in classifica che è il buon Andrea Dovizioso e da Ducatista sono abbastanza contento ma non del tutto la dice veramente lunga sullo strapotere di questo ragazzo che ha vinto l'ottavo titolo del mondo e ormai è sempre più spinto verso i 9 di Rossi e chissà forse anche i 15 di Agostini se continua così evidentemente sì Marquez inevitabilmente va promosso anche a me Marquez sta ampiamente sulle palle però oggettivamente di fronte a un golino di marcia del genere non si può che dire sei tu il più forte e gli altri poveretti si devono arrangiare per le altre posizioni secondo classificato in campionato è Andrea Dovizioso che però io lo boccio sinceramente perché ok che è finito per la terza volta consecutiva al secondo posto nella classifica generale di MotoGP però la Ducati tutte le volte cerca di fare quei passi in avanti per provare a stare con i migliori in questo caso con Marquez ha comunque tirato fuori qualche podio riesce comunque a difendersi per la maggior parte delle gare però due vittorie soltanto in stagione su piste peraltro favorevoli sono veramente molto poche e non sufficienti per una scuderia che era partita con ben altre ambizioni tutta la Ducati ufficiale per la verità va bocciata perché anche Danilo Petrucci che finisce quinto in campionato ha vinto una gara soltanto e ha fatto due podi tra Francia e Catalogna con la vittoria del Mugello e poi da lì si è spento una volta che il contratto si è inevitabilmente risolto a suo favore quindi rinnovo per il 2020 Ducati ufficiale veramente disastrosa ci si aspettava decisamente di più dalla casa di Borgo Panigale promuovo Maverick Vignales perché nella seconda parte di stagione è stato il pilota da battere in alcune piste è riuscito a tenere testa in alcune circostanze a Marquez la prima gara della Malesia l'ha pure vinta è riuscito probabilmente a trovare la quadra del cerchio però troppo tardi quando ormai il mondiale che aveva già vinto Marquez era assolutamente andato Vignales può essere insieme secondo me a Quartararo una delle sorprese della stagione prossima sempre che Marquez non si ripeta sui livelli della stagione che abbiamo appena visto quindi livelli oggettivamente inarrivabili se Marquez si propone ancora su questi livelli inevitabilmente si lotterà per il secondo posto e la MotoGP sarà ancora più neiosa di quella che è stata la Formula 1 con i mondiali di Hamilton contro nessuno però mi avevamo Alex Rins una delle rivelazioni di questo campionato una Suzuki che sicuramente è stata la moto che ha sorpreso di più insieme a un'altra scuderia che vedremo tra poco la Suzuki ha puntato esclusivamente sul 42 Johan Mir nella prima stagione i MotoGP comunque ha fatto il suo Rins è riuscito a vincere un paio di competizioni clamorose soprattutto quella in Gran Bretagna contro Mark Marquez battendolo in volata veramente grande prova di forza per uno dei talenti del futuro della MotoGP che potrebbe anche lui essere se Marquez dovesse avere un minimo di calo ovviamente uno dei contenders per il prossimo mondiale contender che sicuramente è il francese Fabio Quartararo o Quartararo non ho ancora ben capito come si pronuncia della Yamaha Satellite SRT Yamaha Satellite SRT che in questo finale di stagione sta per essere consacrata come la moto rivelazione e sul giro secco è la moto da battere perché Quartararo o Quartararo è riuscito a inanellare una serie di pole position incredibile la rivelazione dell'anno è sicuramente il numero 20 francese pilota che in Moto2 e in Moto3 ha vinto niente che col passaggio in MotoGP questa stagione tanto discusso peraltro invece è riuscito a trovarsi uno spazio veramente incredibile Quartararo sicuramente sul giro secco sarà un antagonista importante per il 2020 e pare che la Yamaha SRT fornisca a lui e a Morbidelli che comunque dobbiamo promuovere perché sì che Quartararo ha fatto una stagione della madonna ma Morbidelli non è da meno potrà essere appunto una moto importante per il 2020 Morbidelli per carità al secondo anno in MotoGP di Vrol da un quadratore del genere poteva fare assolutamente ben poco comunque anche Franco si è tolto soddisfazioni importanti come prime file in qualificazione nell'ultime gare a parte l'Australia che è venito a 11esimo è sempre finito in sesta posizione difficilmente fuori dalla top 10 quando appunti veramente una ottima prestazione per un pilota che l'anno scorso col team di Mark VDS secondo me aveva fatto veramente una fatica incredibile all'anellare delle posizioni importanti e parliamo comunque di un campione moto 2 quindi di certo non dell'ultimo arrivato settimo in classifica Valentino Rossi purtroppo per i tifosi di Rossi va bocciato è evidente che Rossi sia in una fase calante della carriera nelle ultime gare anche la Yamaha SRT l'ha battuto con costanza Quartarro soprattutto ma anche Morbidelli pilota che è conosciuto nell'Academy proprio di Valentino Rossi Rossi correrà anche l'anno prossimo bisogna vedere se sarà ancora almeno su questi livelli nelle ultime gare soprattutto quelle asiatiche ha fatto veramente tanta fatica un'ottava posizione finale soprattutto in Thailandia e Australia ma con delle qualificazioni pessime molto spesso Rossi non superava neanche la prima qualificazione e fa abbastanza specie il fatto che abbia prestazione di questo livello la stagione di Rossi è inevitabilmente in colore sì c'è il miraggio del decimo titolo complessivo nel moto mondiale ma questo titolo non arriverà mai a meno che la Yamaha non faccia la moto veramente iper spaziale e Marquez veramente si infortuna tutte le gare e non fa quello che ha fatto questa stagione se ho pociato Valentino Rossi promuoviamo Jack Miller che comunque ha fatto la stagione della vita su una Ducati clienti che ha compensato le difficoltà della Ducati ufficiale Jack Miller si parla addirittura che possa essere messo in Ducati ufficiale al posto di Petrucci con uno scambio alla pari per il 2020 d'accordo che anche la Ducati Pramac avrà una moto ufficiale l'anno prossimo però effettivamente Jack Miller ha dimostrato di battere sistematicamente Danilo Petrucci nella seconda metà di stagione quando il pilota Umbro si è diciamo calato di prestazioni e l'australiano inevitabilmente è andato sopra podi a ripetizione con la Ducati clienti quattro che comunque per una moto semi privata sono veramente tanti grande stagione Berb Miller anche lui all'epoca molto discusso quando passò in MotoGP direttamente da vice campione del mondo Moto3 e Jack Miller col passare del tempo sta facendo ricredere tutti gli scettici che effettivamente lo volevano da un'altra categoria calcraccio tutto sommato possiamo anche promuovere il pilota inglese che comunque sta facendo sempre il suo di fronte a Mark Marquez inarrivabile molto spesso lui era la migliore delle altre Honda considerato che le altre Honda hanno sempre fatto abbastanza schifo perché vedremo anche Nakagami le prestazioni che ha avuto durante l'anno e Lorenzo invece ne abbiamo già parlato ampiamente calccio è riuscito a fare tre podi in questa stagione e se proprio andavano male le cose e il podio non era una cosa raggiungibile quinte e sesti posti a ripetizione per il pilota inglese fanno di certo una stagione 2019 per me positiva per il pilota che spero vivamente vedere sull'onda ufficiale l'anno prossimo KTM Polizio Espargarò va promosso perché comunque ha fatto la stagione veramente dell'anno con tanto di prime file i piazzamenti in gara purtroppo non rendono giustizia al pilota spagnolo che se si trova una moto con degli investimenti importanti può essere una moto secondo me da punti più alti con costanza quindi io dico da top 10 e anche un pelo di più la KTM sta pian piano crescendo e l'anno prossimo potrà avere una squadra di piloti giovani e interessanti ma ne parleremo ovviamente nel video dedicato all'inizio della prossima stagione Johan Mir fa quello che può tutto sommato possiamo promuovere la stagione del rookie che comunque finita il 12esimo in classifica generale miglior risultato quinta posizione Mir è arrivato dopo un solo anno di moto 2 anche Mir è campione mondiale in moto 3 di fronte a questo ring si poteva fare ben poco tutto sommato non è andata così mai la stagione del pilota spagnolo l'altra onda Takahaki Nakagami a parte un quinto posto al Mugello ha fatto abbastanza fatica tutto sommato Nakagami si può mettere nel limbo si è poi operato nelle ultime gare stagionali e dunque l'ha sostituito uno Johan Zarco che ha una stagione veramente da due volte uno Johan Zarco che comunque non è da promuovere in questa stagione e nonostante una stagione abbastanza incolore tra Honda e KTM può effettivamente incredibilmente trovare posto in MotoGP Zarco ha fatto la stagione di Grazia nell'immagine che vedete quando era in Yamaha Tec3 nella passata stagione in KTM ha fatto disastro ed è da bocciare è passato in Honda LCR i piazzamenti sono rimasti più o meno gli stessi ma per i motivi che vi ho detto prima che la Honda fa una moto solo per Marquez e le altre fanno ampiamente fatica l'Apriglia ancora una volta è da bocciare nonostante i buoni piazzamenti di Alessio Spargarò la scuderia di Noale ha fatto veramente fatica anche in questa stagione Spargarò ha avuto una buonissima prestazione come picco ad Aragon ma per il resto si assesta dalla decima in giù posizione capitolo Andrea Iannone è ancora peggio è passato all'ennesima moto ufficiale della sua carriera e ancora una volta dimostra di non aver ancora completato lo sviluppo evidentemente di questa moto ha fatto veramente tanta fatica e vedere uno Iannone che di talento puro è uno dei piloti più bravi che ci sia ma di testa veramente uno dei peggiori in fondo alla classifica fa veramente riflettere è stato confermato per l'anno prossimo speriamo che l'Apriglia possa ancora una volta avere della crescita che si aspetta da anni ma che per il momento non è mai arrivata un po' come la Honda del team Superbike Francesco Bagnaia tutto sommato ha fatto una grandissima prestazione in Australia quarto si è dovuto adattare molto alla MotoGP Bagnaia tutto sommato è da lasciare un po' nel limbo perché comunque la prima stagione da rookie ha fatto abbastanza fatica insieme all'altro rookie di questa stagione Miguel Oliveira e effettivamente di fronte a un Jack Miller così guadagnarsi delle posizioni più alte di quelle che ha avuto era francamente difficile considerato che il livello della MotoGP al di là di Marquez è veramente alto e basta veramente poco per finire più in là di così KTM che invece completa la squadra clienti con il portoghese Miguel Oliveira primo portoghese in MotoGP senza infame senza lode il pilota portoghese che sarà confermato in KTM clienti l'anno prossimo a scapito appunto di Sarko che è stato scelato da KTM KTM ufficiale che invece prenderà Brad Binder il vice campione del mondo Moto2 di questa stagione un pilota tutto tranne che fermo che a me piace veramente un botto e in KTM insieme a Miguel Oliveira ci sarà Igor Lecuona che sostituisce appunto lo stesso Oliveira che non correrà il Gran Premio di Valencia perché appunto infortunato Titone Rabat e qui parliamo di Ducati a Vinzia che è fondamentalmente sempre all'ultimo posto dello schieramento e dunque è un po' come parlare della Williams in moto scusatemi in Formula 1 cioè sparare sulla croce rossa Titone Rabat e Kale Abraham completano la griglia di Kale Abraham ho già parlato che è l'unico pilota pagante insieme a Serene in questa MotoGP non c'è molto da dire Rabat e Abraham fanno quello che può se gli altri cadono davanti arrivano a punti se no i piazzamenti sono quelli che vedete ultimo pilota regolare che è comunque finito nello schieramento è Affiziarin stagione fallimentare il malese va bocciato al netto delle difficoltà della KTM clienti Affiziarin tornerà in Moto2 l'anno prossimo con la speed up del team di Angel Nieto però parlare di un pilota che è stato sempre in fondo allo schieramento ha fatto solo 8 punti in stagione direi che insomma la dice abbastanza lunga sul suo giudizio parentesi sugli altri piloti sono comparsi Stefan Bradel che comunque ha fatto assolutamente il suo nelle 4 gare che l'abbiamo visto impegnato ha fatto 16 punti contro i 25 di Lorenzo e Lorenzo ne ha corse veramente di più segno della bontà comunque di Stefan Bradel e della scarsitudine in questo caso anche se non si dice di Orghe Lorenzo Michelone Pirro correrà l'ultima gara della stagione come al solito con la terza moto della Ducati ufficiale ha fatto un ottimo settimo posto al Mugello si è ritirato in Grappermo di San Marino in Misan Adriatico è tornato il poterosissimo Silvain Ghintoli che comunque da ex campione superbike qualche punto di MotoGP l'ha racimolato e soprattutto signori lui il finlandese volante Mika Caglio pilota per me leggendario che ha sostituito Zarco in KTM ufficiale come appunto pilota di sviluppo e due punticini anzi tre addirittura me li ha addirittura presi quindi leggendario Mika Caglio spettacolare Bradley Smith è comparso anche in questa sezione o non solo in Moto E dove correrà l'ultima gara a Punta Valencia in questa domenica ma ha fatto qualche comparsata come terzo pilota Aprilia anche lui dopo la musica ma non per colpe necessariamente sue ma appunto per l'Aprilia che è una moto ancora da costruire fatemi sapere cosa ne pensate dunque di questo grande episodio del Racing Podcast sul ritiro di Orghe Lorenzo su chi potrà essere il sostituto e anche sui miei giudizi da appassionati da esterno sui promossi e bocciati del moto mondiale il canale sportivo comunque torna domani per il post gara del Campanio del Brasile e ci vediamo dunque a un prossimo video e anche sulla pagina facebook che trovate sempre qui sotto in descrizione e saluto da parte di Matthew Torger ci vediamo a un prossimo video